Musica Abbiamo realizzato questo progetto che si chiama FixView ed è stato ideato per persone ipovedenti. Questo progetto ha una doppia funzione, sono degli occhiali legati ad un'applicazione e quindi la prima funzione è quella di in un certo senso vedere meglio attraverso la luminosità, il contrasto, la saturazione e la seconda è quella tramite l'applicazione, il codice QR esposto all'esterno di un museo, un'attrazione turistica e tramite l'assistente vocale di avere una spiegazione in più durante la visita dell'attrazione. Il bisogno che abbiamo rilevato è un bisogno per persone ipovedenti, abbiamo quindi realizzato un'idea innovativa e creativa così da poter dar loro un aiuto originale nel campo turistico. La soluzione alla quale abbiamo pensato è FixView, si tratta di un paio di occhiali con la disponibilità della realtà aumentata, appunto regolabili in luminosità, luci e contrasto, assieme a un'applicazione che permette appunto agli ipovedenti e soprattutto ai non vedenti di orientarsi meglio all'interno di un museo o di un'attrazione turistica. Il vantaggio che pensiamo possa derivarne è un aumento della clientela, in questo caso appunto persone ipovedenti, nei musei e nelle attrazioni che però decidono di aderire a questo progetto tramite il codice QR che poi esporranno all'esterno. Live Screen, la vita attraverso lo schermo, diciamo che è stato per noi questo un anno pieno di limitazioni e lo schermo ci ha permesso diciamo di uscire da questa fase di isolamento comunque in cui ci trovavamo e inoltre ci ha dato un'idea su come aiutare appunto persone come appunto i non vedenti che vivevano un altro tipo di isolamento magari anche prima del covid appunto. Ciao! Ciao!